50 anni fa mio padre pensò al futuro e diede vita a questa azienda se adesso fosse qui penso sarebbe soddisfatto nel vedere dove siamo arrivati ma sono anche sicuro che mio padre nonostante i grandi risultati direbbe una cosa sola da lui abbiamo imparato che un imprenditore non smette mai di pensare al futuro che le domande non finiscono mai e le risposte possono arrivare da tutti oggi la conceria montebello produce pellami per le grandi firme della moda l'arredamento e il design esportando i suoi prodotti in tre continenti qui lavorano più di 200 persone e sicuramente anche loro almeno una volta si sono fatte questa domanda cosa succederà tra un anno tra dieci o tra 50 certo cambierà la tecnologia ma le mani che la muovono saranno altrettanto intelligenti oppure l'errore umano sarà eliminato dai robot spero di no perché senza errori non ci sarebbe alcun desiderio di progresso e da prove sbagliate possono nascere cose straordinarie la qualità delle idee sarà il grande valore di domani ma soprattutto la qualità dipende dall'esperienza delle persone che lavorano con noi ogni giorno il loro sapere è il nostro futuro per questo motivo oggi siamo molto attenti all'ambiente in cui ci troveremo a lavorare domani alla montebello abbiamo elevato gli standard delle nostre lavorazioni dalle materie prime che usiamo all'impatto che queste hanno sull'ambiente che ci circonda pensare il futuro è per noi un emozionante sfida a far sempre meglio con passione e immaginazione senza limiti oggi dopo 50 anni io e la nostra famiglia siamo la montebello e quando il domani arriverà noi saremo pronti ciao 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 ciao